ecco come distruggere gli agrocchi di natale ma tutti li dobbiamo distruggere dall'alto al basso vero ti auguro chi rambo pennetta rocchi ti dà fastidio vero ti dà fastidio ora vado e lo sollevo sì sì eric vuole fare vomitare e poi gli ha fatto le palle della gourmet guardate che carino questo questo è qui carino come addobbino e poi ci abbiamo dalla piscina andate le luci di natale le lucette di natale costruito un albero con le luci ecco qua tutte le luci di sare più bello e poi l'alberello a rovescio un po di natale anche qui